Scivola del sentiero e perde la vita. Domenica pomeriggio drammatica a Forcella Antracisa, al confine tra Pieve di Cadore e il comune friulano di Andreis. La vittima è il 55enne calaltino Giuseppe Denardi. Mentre percorreva un sentiero con un amico è caduto sul ripido versante erboso irrigidito dal freddo. L'amico che lo precedeva lo aveva visto sparire in basso e continuando a chiamarlo in vano era sceso per 40 metri prima di dare l'allarme. Sul posto l'elicottero del Suem. L'equipaggio ha iniziato a sorvolare il pendio finché 200 metri circa sotto il sentiero non è stato individuato il corpo. Per i 55enne la caduta era stata fatale. L'assalma è stata quindi recuperata e trasportata a Nebbiù. Il soccorritore è rimasto a terra e risalito fino dall'amico raggiunto dal resto della squadra calatasi con una corda. Dopo essere stato assicurato l'uomo è stato riportato sul sentiero e da lì accompagnato a valle. Grazie.